Al netto del fatto che lei sente la fiducia evidentemente a quello che traspare da parte dei dirigenti, però non c'è un buon senso in queste partite di autossoluzione, leggendo anche quello che riportava nell'intervista o nella chiacchierata, c'è un senso di autossoluzione, cioè che gli errori sono fatti gli altri, mancano giocatori di qualità, che questa è una squadra che dovrebbe fare di più, però mi chiedo, lei non si sente un po' anche responsabile di questa situazione? Io sono responsabile, però lei l'ha eletto male, mi dispiace dirlo, e non siamo qui a sindacare, perché la squadra, lo vedi, lei sta avvenendo una cosa che è all'opposto di quello che vedo, perché se lei legge stamattina quello che si sono sconcerti e non sto qui a sindacare perché non serva a niente, io sono pratico, le parole porta via al vento e biciclette come Dio è sempre livornesi. Ho mai avuto tutti i giocatori a disposizione? No. La scuola sta facendo bene? Sì. Nelle condizioni in cui siamo. Poi ognuno vede le cose come, comunque detto questo, cioè non ti sta a sindacare le cose, tanto, nel calcio c'è un vecchio detto che mi fa sorridere, se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi... quindi... ... ... ... ... ... ... ... Grazie.